Sessore, oggi in conferenza stampa viene illustrato questo importante progetto, si parla di occupazione, mai come oggi importante? Fondamentale per gli effetti negativi della pandemia, che ha avuto ripercussioni sul mondo del lavoro, è questo piano di politiche per il lavoro, è veramente rivoluzionario, ha una dote finanziaria di circa 40 milioni, metteremo in campo una serie di misure, circa 5 che va a soddisfare per il 2022, circa 14 mila abruzzesi. Si tratta di misure riguardanti incentivi all'occupazione di over 50, giovani, disoccupati, donne e anche disabili, ma soprattutto cercheremo di dare incentivi a quelle aziende che sono in crisi affinché vengano mantenuti i livelli occupazionali, sapete benissimo che ci sono diverse crisi aziendali, quindi con queste misure cercheremo di fronteggiare questa emergenza a tutti gli effetti. Quindi sono molto soddisfatto che è stata l'adattuazione a questo piano, autorizzato da Ampal, quindi a breve partiremo gli avvisi e con queste misure cercheremo appunto di dare una risposta alle tante problematiche dei lavoratori abruzzesi e cercheremo di creare nuova occupazione. Logicamente vicino alle misure di inserimento al lavoro ci sono misure formative, perché è fondamentale qualificare i profili professionali, perché spesso c'è lavoro ma mancano determinati profili. Dopo gli avvisi quando ci saranno i primi effetti di questo programma? Io direi già dopo l'estate, perché gli avvisi saranno pubblicati prima dell'estate, subito dopo l'estate daremo attuazione a questi avvisi, dobbiamo dare una forte accelerazione anche a livello procedurale, perché spesso la burocrazia rallenda ma ci stiamo attivando per accelerare tutto.